Le frasi più belle di San Francesco d'Assisi La vita è un viaggio, un viaggio verso la scoperta di sé, e nessuno ha capito meglio di San Francesco d'Assisi. Ha detto, inizia facendo ciò che è necessario, poi ciò che è possibile, e all'improvviso stai facendo l'impossibile. Viviamo in un mondo frenetico, ma San Francesco ci ricorda di rallentare e di apprezzare la bellezza della natura. Ha detto, tutte le creature del cielo e della terra sono unite da un filo invisibile di amore e rispetto. San Francesco ha insegnato l'importanza dell'umiltà. Ha detto, chi è che può vantarsi di possedere qualcosa che non gli è stato dato dal cielo? Non dimentichiamo mai che tutto quello che abbiamo è un dono. L'amore era al centro del messaggio di San Francesco. Ha detto, l'amore non guarda con gli occhi, ma con l'anima. Ricordiamo sempre di amare con tutto il nostro cuore e la nostra anima. San Francesco ha mostrato il potere della gratitudine. Ha detto, per ogni giorno che passa, ringrazia. La gratitudine porta alla pienezza della vita. Non dimentichiamo mai di essere grati per ogni singolo giorno. San Francesco ha insegnato il valore del perdono. Ha detto, il perdono è il dono più grande che possiamo dare a noi stessi. Perdonare non significa dimenticare, significa liberare il nostro cuore dal peso del risentimento. Era un uomo di pace. Ha detto, prega per la pace e pianta semi di amore ovunque tu vada. In un mondo pieno di conflitti e divisioni, dobbiamo essere i portatori di pace e amore. San Francesco ha mostrato l'importanza della semplicità. Ha detto, la vera gioia non viene dalle ricchezze materiali, ma da un cuore puro e da una vita semplice. Ricordiamoci che la vera felicità non si trova nelle cose, ma nel nostro cuore. Ci ha ricordato di essere rispettosi verso tutte le creature viventi. Ha detto, ogni creatura è un fratello o una sorella con cui condividiamo la nostra esistenza. Trattiamo ogni essere vivente con gentilezza e rispetto. E infine, San Francesco d'Assisi ha insegnato a vivere con passione. Ha detto, non basta vivere, bisogna vivere con passione. Non accontentiamoci di sopravvivere, ma cerchiamo di vivere ogni giorno con passione e gioia. Ora, più che mai, le parole di San Francesco d'Assisi sono rilevanti. Possiamo trarre ispirazione da lui per vivere una vita di amore, pace, gratitudine e passione. Se potessi, cosa diresti a San Francesco? Scrivilo nei commenti.